Questo sarà un video controverso, io già lo so e già lo so che cosa succederà, succederà che nei commenti mi scannerete, vi scannerete, si scanneranno, succederà un macello, ma io di questo argomento volevo parlare. Prima di iniziare lasciatemi però fare una raccomandazione, per favore, anche su questi temi che sono così importanti, così concreti, così divisivi, si può essere civili, quindi per favore discutete, dibattete, criticate, prendetevela con chi volete in maniera civile e argomentata. Non venite qui sotto nei commenti a starnazzare perché veramente inquinate il dibattito e non si riesce mai a cavare niente di positivo da questi spazi commenti dove veramente succede il degrado. Allora partiamo con raccontare che cosa è successo, cosa è accaduto di tanto rilevante da farmi venire voglia di fare un video rant, diremo così. La notizia è la seguente. Dare più tempo nei test di matematica riduce il divario di genere. La Bocconi, per ridurre il gap di genere, il divario di genere, cioè la quantità di iscritti di differenza tra maschi e femmine, introduce una novità nei suoi test aumentando il tempo a disposizione nelle prove di matematica, ok? Ridurre l'ansia connessa alle prove di matematica aumentando il tempo a disposizione migliore i risultati delle ragazze senza compromettere la qualità della selezione accademica, ok? Quindi, leggiamo velocemente. Aumentare il tempo a disposizione durante i test può diminuire il divario di genere anche del 40%. Questa è la conclusione a cui sono arrivati Vincenzo Galasso e Paola Profeta, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche della Bocconi, in uno studio pubblicato su The Economic Journal, che è questo qui. I risultati della ricerca dimostrano che dare più tempo per completare i test matematici non compromette la qualità della selezione accademica, poiché la correlazione tra i punteggi dei test e le prestazioni universitarie rimane costante, indipendentemente dal tempo assegnato al test. Ma dare più tempo può favorire una maggiore equità di genere nel campo delle materie STEM, scienze, tecnologie, ingegneria e matematica. La disparità di genere nei test matematica è stato a lungo riconosciuto come uno dei fattori che ostacolano l'accesso alle donne nelle carriere STEM, che spesso offrono salari più elevati e bla bla. Studi recenti, precedenti, hanno dimostrato che le donne tendono a evitare i test matematica o a ottenere punteggi inferiori rispetto agli uomini, principalmente a causa dell'ansia legata alla matematica, che è maggiore tra le donne rispetto agli uomini. L'ansia sembra intensificarsi quando il tempo a disposizione è poco, il che aggrava il divario di genere nei risultati dei test. Gli autori dicono, abbiamo osservato che quando il tempo per completare il test è molto limitato, le donne forniscono in media due risposte corrette in meno rispetto agli uomini, differenza significativa. Aumentando il tempo a disposizione si osserva un notevole miglioramento delle performance femminili, con una diminuzione del gap fino al 40%. Ok, poi ovviamente ci sono delle informazioni sugli studi, io poi vi lascio tutte le fonti in descrizione, e vi dico anche che questa misura, quindi di cercare di diminuire il divario di genere, aumentando, dando più tempo a disposizione nei test di matematica, non è stata presa soltanto dalla Bocconi, ma è stata presa anche a Oxford, no? A Oxford le ragazze hanno più tempo ai test di matematica. Quindi, in sostanza, alcune università del mondo, la nostra Bocconi, in primis poi anche Oxford e anche altre, quindi università anche di rilievo, dicono, le donne hanno più ansia nel fare i test di matematica e noi aumentiamo il tempo a disposizione dei test di matematica per fare entrare più donne nella nostra università. Quando io ho letto questa notizia, istintivamente, la prima cosa che ho pensato è, ma che cazzata è questa? Dopodiché, però, mi sono reso conto che era un argomento più complesso, e quindi ci ho pensato, ho chiesto vari pareri, ho discusso con varie persone, e voglio esporvi quelli che secondo me sono le criticità e le problematiche di questo modo di ragionare. Prima di tutto, un concetto. Partiamo dal presupposto che gli studi di cui parlano queste persone siano studi solidi. Ora, sono studi su cui io non ho una grande competenza tecnica, quindi non mi posso permettere di andare a criticare il lavoro di Vincenzo Galasso e Paola Profeta. I loro articoli, tra l'altro, comunque sono stati pubblicati su Due Economic Journal, hanno subito una peer review, fanno riferimento anche ad altri lavori come questo, per esempio, Gender Differences Under Test Pressure and Their Impact on Academic Performance, Quasi Experimental Design, di Daniel Montolio e Per Taberner, e altri. Quindi c'è bibliografia e sembra essere bibliografia solida. Quindi partiamo dal presupposto che non mi permetto in questa sede di giudicare la validità di questi studi. Tuttavia vorrei sottolineare cosa ci dicono davvero questi studi e qual è la differenza tra quello che questi studi ci dicono, quello che viene percepito a livello comunicativo dalle persone che leggono questa notizia, e quella che poi è la misura effettiva che la facoltà o l'università apprende. Gli studi dicono questo. Dicono che, in media, attenzione perché questa parola è importantissima, in media le donne tendono a soffrire di più l'ansia del poco tempo a disposizione nei test di matematica. Questo è quello che dicono questi studi. Non dicono niente di più di questo. Interessante è capire che non ci spiegano il perché questo succeda. Questi non sono degli studi che spiegano, sono degli studi che evidenziano un fenomeno. Un fenomeno statistico. Un fenomeno che non dice, attenzione, che le donne hanno ansia nei test di matematica e gli uomini non hanno ansia nei test di matematica, e non dice neanche che le donne vanno peggio ai test di matematica, gli uomini vanno meglio. Dice che, in media, le donne hanno più ansia. Questo le porta a sbagliare di più. In media. Ma vuol dire questo? Che ci sono donne che vanno meglio degli uomini, uomini che vanno meglio delle donne, uomini ansiosi più delle donne, donne ansiose più degli uomini, ma in media c'è un po' più di ansia. Questo è molto importante. Ora, intanto, ci si dovrebbe domandare il perché di questa ansia. Ci sono degli aspetti biologici dietro? Ma io ricordo di aver letto degli studi, anche piuttosto solidi, a livello sempre psicologico, sociologico, di personalità, eccetera, dove veniva dimostrato, in maniera anche statisticamente abbastanza rilevante, che ci fossero delle differenze di genere nelle, come dire, nella ripartizione dei tratti di personalità. Uno dei tratti di personalità è quello legato all'ansia, no? È quello legato al subire di più certe situazioni, no? E senza alcun dubbio, quindi, visto che tutte le caratteristiche umane sono distribuite in modo differente nei generi, non vedo perché non dovrebbe essere così anche con il tratto che viene chiamato nevroticità. Ma attenzione, noi gli diamo un'accezione negativa. Nevrotico per noi è quasi un insulto, non si sta parlando di quello. Nevroticità è il tratto che descrive questo tipo di comportamenti più ansiosi. Quindi, io non voglio dire che non ci sia una differenza, no? Tra maschi e femmine in questo tratto. E quindi trovo che sia abbastanza plausibile che possano esserci anche delle differenze statistiche di genere nella risposta a certi test stressogeni. Tuttavia, mi appare come evidentemente un po' strano il fatto che questo accada soprattutto con i test di matematica. Perché dico questo? Perché se una persona ha il tratto di nevroticità molto alto, quindi una persona che subisce molto l'ansia, che subisce molto eccetera eccetera, la subisce sempre. Non è che la subisce solo nella matematica. Il fatto che questa cosa sia quindi localizzata nello specifico nei test di matematica mi dice che probabilmente, oltre alle differenze di genere biologiche, evoluzionistiche, che tutti conosciamo e nessuno nega, almeno nessuno che abbia studiato un po' di letteratura scientifica nega, mi dà la sensazione che ci sia sotto anche qualcos'altro, qualcos'altro che ha a che vedere con il noto stereotipo di genere che purtroppo in alcune fasce della società è ancora molto diffuso, non in tutte naturalmente, ma è molto diffuso nella società generale, in Italia come all'estero, del fatto che le donne sono meno brave nelle materie STEM, le materie STEM sono fatte per gli uomini, alle donne meglio le materie umanistiche, eccetera. Io credo che questo possa contribuire a questo racconto della matematica come bestia nera delle donne e aumentare questa ansia generalizzata. Mi piacerebbe vedere degli studi che comparano, ma non ne ho trovati, che comparano le prestazioni nei test a tempo di donne e uomini con la matematica, ma anche con altre materie, con la fisica, ma perché non con la logica, ma perché non con l'italiano, la comprensione linguistica, eccetera. Ho il sospetto, ho il sospetto, che ci potrebbero essere delle differenze che sono giustificate non solo da fattori biologici, ma anche da fattori culturali, ambientali, di stereotipo. Ma questo è ancora un discorso preliminare perché facciamo finta che non ci interessa il perché. Ci interessa nel senso che se il problema è almeno in parte legato a stereotipi, pregiudizi, struttura sociale, eccetera, buttare fuori una comunicazione dicendo, ah, le donne vanno peggio in matematica, diamole più tempo, non sono sicuro che sia la strategia corretta, ma va bene. Facciamo finta che non sappiamo perché succede tutto questo, sappiamo solo che succede. L'altra domanda che mi viene da pormi è davvero diminuirà così il gender gap? Cioè davvero questa misura avrà un impatto significativo perché gli studi parlano di queste differenze di ansia nei test, ma non sottolineano mai in realtà come questo impatterà nell'iscrizione all'università. Tant'è che, qui si dice, può diminuire il divario di genere anche del 40%. Questa frase mi dice che non ci sono studi in merito, adesso lo stanno un po' inventando. Vedremo, questo mi vuol dire che alla Bocconi ci saranno il 40% di più di donne? Sembra estremamente, estremamente improbabile, quindi aspetto di vedere se questa misura è efficace effettivamente per diminuire il divario di genere. Ma arriviamo così, dopo tutta questa lunga premessa, perdonate la lunga premessa, ma questi sono argomenti difficili e bisogna trattarli con cognizione di causa, arriviamo a quello che secondo me è un errore comunicativo clamoroso. Comunicare che si aumenta il tempo a disposizione per i test di matematica perché si vuole aiutare le donne dà un messaggio completamente diverso da quello che la ricerca scientifica ci dice. La ricerca scientifica parla di medie, di statistiche, di distribuzione di tratti di personalità. La comunicazione dell'università che dice vogliamo far passare più donne, aumentiamo il tempo, dice al mondo le donne sono scarse in matematica, le donne sono ansiose, le donne sono volubili, alimenta lo stereotipo invece di combatterlo. Quello che a mio avviso bisognerebbe fare perché io tra l'altro e qui vi sorprenderà forse sapere che sono a favore di questa misura cioè io sono d'accordo con quello che ha fatto la Bocconi ma l'avrei comunicata in modo completamente diverso. Perché? Perché dall'altra parte ogni stereotipo femminile ha anche la sua controparte maschile quando noi diamo la comunicazione del aumentiamo il tempo a disposizione per le donne alla Bocconi perché si fanno prendere dall'ansia in matematica stiamo contemporaneamente dicendo che agli uomini questo non succede e attenzione la scienza non dice questo la scienza dice che statisticamente succede non sappiamo perché secondo me c'è anche un buona dose di stereotipo un po' di più alle donne un po' di più non drasticamente di più non 90-10 vuol dire che ci sono un sacco di ragazzi maschi che hanno ansia durante il test di matematica e che beneficeranno anche loro altrettanto delle loro compagne di questo aumento del tempo a disposizione. Questa comunicazione detta così non fa che alimentare a mio avviso lo stereotipo di genere eppure essendo una misura corretta in termini di selezione perché questo è il punto fondamentale su cui voglio tornare fa più danni dei vantaggi che offre la comunicazione giusta quale dovrebbe essere secondo me abbiamo notato che aumentare il tempo a disposizione non pregiudica la qualità della selezione e lo dicono questo perché lo dicono dicono la correlazione tra i punteggi dei test e le prestazioni universitarie rimane costante indipendentemente dal tempo assegnato al test questa è la vera scoperta cosa ci dice questo ci dice che puntare tutto sul fare dei test ansiogeni ultra ristretti in termini temporali cattivi eccetera eccetera non porta ad avere migliori studenti migliori studentesse questo è l'importante e quindi che cosa dovrebbe dire una comunicazione a mio avviso corretta dovrebbe dire eliminiamo il fattore ansia dalla selezione degli studenti e delle studentesse concentriamoci sulla loro bravura noi vogliamo studenti e studentesse bravi brave non per forza puntare tutto su quanto resistono allo stress e questa comunicazione sarebbe completamente diversa perché andrebbe a parlare di quali sono i criteri di selezione che cosa vogliamo selezionare con un test d'ingresso vogliamo selezionare chi è più resistente allo stress o vogliamo sottolineare la migliore studentessa ecco che allora la comunicazione cambia drasticamente perché se io invece mi concentro sul devo far passare più donne quindi aumento il tempo sto da un lato facendo un disservizio alle donne alimentando lo stereotipo facendo un disservizio agli uomini perché alimento lo stereotipo che gli uomini invece non sono mai ansiosi e anzi sono duri sono tosti resistono meglio sotto pressione così poi tutti i ragazzi maschi che invece soffrono di ansia perché attenzione di nuovo si parla di percentuali si parla di media la distribuzione di questi tratti di personalità va un po' più in una direzione un po' più in un'altra ma ci sono un sacco di uomini tanto ansiosi quante le donne e un sacco di uomini più ansiosi delle donne semplicemente in media un po' più di donne hanno quest'ansia per il test quindi facciamo un disservizio agli uomini facciamo un disservizio alle donne alimentiamo gli stereotipi di genere e non comunichiamo ciò che davvero fa la differenza e cioè basta con questi test ansiogeni del cazzo in cui il time restraint cioè il fatto di fare il test con pochissimo tempo a disposizione non aiuta in alcun modo a selezionare migliori studenti migliori studentesse ecco questo secondo me è il punto il punto è che la misura è giusta il modo in cui l'hanno comunicata a mio avviso è completamente sbagliato e va ad inserirsi in un discorso che ho fatto anche altre volte su come comunichiamo le differenze di genere al giorno d'oggi nella società di adesso c'è una grandissima attenzione sulle tematiche di genere sulle tematiche dei diritti e io penso personalmente che sia una cosa giustissima io sono super a favore di questa cosa qui ma se da un lato ci sono i maschilisti i sassisti eccetera eccetera e dall'altro ci sono le estremiste del woke assoluto a tutti i costi chi si occupa di scienza e queste persone della Bocconi hanno fatto uno studio scientifico non dovrebbe alimentare la semplificazione la banalizzazione e dovrebbe invece prendersi la responsabilità di comunicare le cose in maniera comprensibile restituendo però la complessità le distribuzioni statistiche le curve di distribuzioni statistiche nelle preferenze di genere nelle caratteristiche di genere nell'intelligenza in tutte queste cose qui sono argomenti complessi che non possono essere ridotti a a sei uomo quindi sei meno ansioso a sei donna quindi sei più ansiosa perché da questo modo di comunicare è questo che emerge e la scienza non ci dice questo ripeto ancora una volta la scienza ci dice che in media in media media vuol dire che non tutti gli individui sono in un modo e tutti gli altri in un altro ma in media c'è un po' più di fenomeni di ansia legati a questi test nelle donne e non ci dice neanche il perché quindi potremmo anche scoprire che riducendo gli stereotipi di genere lottando per la parità di genere i diritti la cultura la società eccetera eccetera questo gap è una supposizione però si ridurrebbe ancora di più cioè la mia supposizione è che ci siano delle basi come in quasi tutti i fenomeni ci siano delle basi biologiche effettivamente determinate perché uomini e donne non sono uguali nelle distribuzioni delle loro caratteristiche ma che queste basi biologiche vengano esacerbate proprio dal pregiudizio dallo stereotipo e dalla società dall'influsso culturale dell'ambiente e quindi se sto sparando numeri a caso per farvi capire il mio ragionamento se magari quella differenza è del 20% in media lo stereotipo la porta al 40 e questa è la mia supposizione e cioè che ci sia una base di verità biologica evoluzionistica e su quella base poi si faccia un'esagerazione che porta alle follie di certi stereotipi ok quindi questo è questa decisione della Bocconi che io ritengo essere giusta non è e non deve essere una decisione di genere non ha niente a che vedere con maschi e femmine e non mi interessa neanche personalmente andare a ritoccare i test per far passare uno per far passare l'altro se lo scopo dello sbarramento è selezionare i migliori e le migliori allora non mi dovrei preoccupare personalmente di tarare il test a favore di uno a favore dell'altro non mi interessa questo il vero punto è capire che questa puntare tutto sull'ansia sul test ansiogeno non aiuta nessuno e paradossalmente io ritengo che ci saranno un sacco di studenti maschi che beneficeranno tantissimo enormemente di questo aumento di tempi di un quarto d'ora venti minuti quello che è dal punto di tempo psicologico io ho a che fare con centinaia di migliaia di studenti l'ho avuto negli ultimi ormai 12-13 anni che lavoro e faccio questo mestiere e vi assicuro che ce ne sono tantissime tantissime di studenti con l'ansia uomini e donne maschi e femmine quello che volete e non lo so se c'è un po' più di uomini un po' più di donne gli studi ci dicono così mi fido ma so che questo questa ossessione per il tempo e per gli esami stressanti rovina la qualità della selezione questo lo so e pare che lo abbiano capito anche loro non hanno ancora capito come comunicare quindi questo è il punto io penso che il ragionamento che noi dobbiamo fare è proprio su due piani da un lato capire come vogliamo comunicare queste tematiche e non ridurle a una banalizzazione come è stato fatto secondo me in questo mal riuscito sforzo comunicativo di farsi vedere più inclusivi dall'altro canto dobbiamo domandarci che cosa vogliamo che sia un'istituzione universitaria che cosa vogliamo che selezioni a mio avviso l'istituzione universitaria non deve selezionare sulla base della resistenza allo stress alla resistenza all'ansia alla resistenza alla pressione non credo che sia questo il modo in cui selezioneremo necessariamente i migliori e le migliori economisti economiste giuristi giuriste ingegneri ingegnere dopodiché certamente la resistenza allo stress la resistenza all'ansia la resistenza a quello che volete avrà un influsso nel mondo del lavoro e nella vita di ognuno di noi e di ognuna di noi non credo che sia il compito di uno sbarramento universitario selezionare sulla base di questo ok penso che poi tra l'altro si cresce c'è una bella differenza tra quando si ha 18 anni quando se ne hanno 30 quindi vorrei anche vedere questi studi chi prendono in considerazione qual è il campione eccetera c'è molto da approfondire e niente questa è la mia è la mia opinione è un'opinione complessa sono d'accordo con quello che è stato fatto non sono d'accordo con come è stato comunicato e vorrei sapere voi che cosa ne pensate sempre con civiltà sempre con pazienza sempre cercando di restituire la complessità di questi temi perché non giova a nessuno non giova a nessuno dividersi in pro femministi contro femministe pro questo pro quello contro questo in tifoserie e tifo da stadio non è questo il senso di questo video che sto facendo e non è questo secondo me il senso di quello che dovrebbe fare chi si occupa di scienza questa è la mia umile opinione e aspetto al varco di vedere se effettivamente ci sarà una diminuzione del gap fino al 40% che poi troverà riscontro nelle iscrizioni alla Bocconi li aspetto al varco fra un anno o due vediamo fatemi sapere che cosa ne pensate a questo grazie a tutti grazie a tutti